Davide Donadei viola il regolamento al GFVP Beggingara Sanremo 2023. Nella casa del GFVP Davide Donadei infrange il regolamento rivelando alcuni nomi degli artisti che parteciperanno al festival di Sanremo come Beggingara. Su Twitter la questione ha sollevato non poche polemiche perché, già diverse volte nel corso di questa edizione, gli spoiler non sono stati puniti come gli anni precedenti. Durante un momento di chiacchiere con Alberto, Sara e altri, Davide Donadei si è lasciato sfuggire qualche parola di troppo. Essendo entrato nella casa a dicembre, il concorrente ha fatto in tempo a conoscere alcuni dei nomi degli artisti che quest'anno saliranno sul palco del festival. Voglio che ci vada Vilma, suggerisce qualcuno quando esce il discorso. Poi io sono fan di Ultimo e lui a Sanremo ci va. Aggiunge Davide. Lo hanno preso proprio all'ultimo, l'ultima settimana, spiega. Ma quindi tu sai già tutti quelli che vanno, chiede curioso 0 Alberto De Pisis. I primi, risponde Davide. Ah certo, perché li hanno detti già a dicembre, dimmi solo un nome e basta. Un revival, insiste lui. Paolo è chiara, rivela Donadei, lasciando nello stupore più totale i compagni. Bello. Stai scherzando. Poi la regia, come sempre, censura l'audio. A novembre un episodio simile si era verificato quando Vilma Goic aveva rivelato alcuni dei risultati dei mondiali di calcio. L'argentina ha perso contro l'Arabia Saudita, aveva detto chiaramente. Ma cosa ne sai tu? Aveva provato a farla tacere Charlie Gnocchi mentre gli altri sordignavano divertiti per l'errore. La regia, nel frattempo, aveva censurato l'audio per tutto il tempo delle sue esternazioni. Anche in quel caso non era arrivato alcun provvedimento disciplinare nei suoi confronti. Come invece successe ad esempio nel 2020 ad Andrea Seletta che rivelò diverse informazioni calcistiche. Muzica, jos patescu, jos ponta, sus cu rapu, ambitie, traditie, asta m-a dus cu rapu, decât mai toți ziceau că muzica a pus cu rapu, și pentru el e de bun simță ridic ștacheta, liric vorbința, ajungă la ea doar nasa cu racheta, s-o admire nave spațiale de pe Andromeda, ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu textul-i plin de dude, dume retante printre dalea culte, incerc flow-uri sute la show-uri buite, cum rup capete lumea de din capă rupte, bobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât.